Ciao a tutti, bentornati su Viaggiamo Easy. Oggi vi porterò in un viaggio virtuale alla scoperta delle migliori spiagge dell'Albania, destinazione ancora poco conosciuta ma che nasconde delle vere e proprie gemme sulle sue coste. Siete pronti a esplorare insieme a me le spiagge più spettacolari di questo affascinante paese? Bene, allora cominciamo. Il primo luogo che vi propongo è la spiaggia di Xamil, una delle destinazioni balneari più rinomate e affascinanti dell'Albania. Situata lungo la costa Ionica, questa spiaggia incantevole è un vero paradiso per gli amanti del mare e del sole, infatti è famosa per le sue acche cristalline che si estendono per chilometri lungo la costa sabbiosa. Ciò che rende Xamil speciale sono le tre isole che emergono dall'acqua a breve distanza l'una dall'altra. Sono chiamate le tre sorelle e rappresentano l'icona di Xamil perché creano un scenario unico e pittoresco. Oltre alla bellezza naturale, Xamil offre anche servizi e strutture per i visitatori. Lungo la spiaggia troverete infatti bar, ristoranti e caffè dove poter gustare piatti tradizionali albanesi e internazionali. Inoltre è possibile non alleggiare attrezzature per lo sport acquatico, come kayak, pedalò o moto d'acqua per raggiungere un po' di avventura alle vostre giornate in spiaggia. La seconda spiaggia che voglio mostrarvi è la spiaggia di Dermi, una delle spiagge più affascinanti e panoramiche della riviera albanese, celebre per la sua bellezza mozzafiata e la sua atmosfera reglassante. Questa spiaggia incantevole è caratterizzata da una lunga distesa di sabbia dorata e ciotoli bianchi che si fonde con le acque cristalline del mare. Ciò che rende Dermi super affascinante sono le maestose montagne che compaiono sullo sfondo. Infatti il contrasto tra il mare azzurro e le montagne verdi crea un'atmosfera unica e suggestiva che non potrete dimenticare facilmente. Dermi è una destinazione ideale sia per chi cerca relax e tranquillità sia per gli amanti degli sport acquatici. Potrete godervi il mare e il sole, fare lunghe passeggiate sulla spiaggia o sfruttare le calette nascoste lungo la costa. Continuiamo il nostro viaggio verso la spiaggia di Giali, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura incontaminata. Questa spiaggia è caratterizzata da una lunga distesa di sabbia dorata, acque limpide e scogliere che si stagliano sullo sfondo. Potrete prendere il sole e fare passeggiate lunghe sulla spiaggia e godervi il panorama mozzafiato che si apre di fronte a voi. Diale è anche nota per essere una destinazione preferita dagli amanti del campeggio, poiché offre un'esperienza unica a contatto con la natura. La spiaggia di Gipe è un vero e proprio tesoro nascosto, situato in una baita appartata. La spiaggia è una destinazione perfetta per coloro che cercano una spiaggia selvaggia e incontaminata. Ciò che la rende così speciale è l'accesso unico che offre, infatti per raggiungerla è possibile attraversare una stretta gola circondata da imponenti scogliere. In alternativa potrete fare una piacevole escursione a piedi partendo da un sentiero che parte dal villaggio di Gipe. Sarete accolti da un panorama spettacolare, infatti la spiaggia è caratterizzata da una lunga distesa di sabbia bianche e da imponenti scoglieri che si ergono sullo sfondo, che crea un'atmosfera naturale e tranquilla. Gipe, infatti, è una spiaggia perfetta per coloro che amano la tranquillità, essendo una meta meno frequentata dai turisti. Inoltre è un luogo ideale per gli amanti della rampicata. Le scoglieri circostanti offrono infatti pareti rocciose dove è possibile arrampicarsi sia godere di una vista panoramica unica sulla spiaggia e sul mare. L'ultima spiaggia che voglio proporvi è quella di Saranda, una delle sinazioni balneari più famose dell'Albania. Offre una combinazione di bellezze naturali e fascino culturale. La spiaggia è caratterizzata da acque cristalline, sabbia dorata e un'atmosfera vivace. Qui potrete rilassarvi sulla spiaggia, fare una notata rigenerante e immergervi nella vibrante vita notturna della città. Non lontano da Saranda potrete visitare anche il suggestivo sito archeologico di Butrinto, un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Con questa si conclude il nostro viaggio tra le spiagge più belle dell'Albania. Una meta turistica che sta emergendo per la combinazione di paesaggi morgistafiato, ospitalità calorosa e una ricca cultura di tradizioni e prezzi super competitivi. Se state pianificando una vacanza al mare, l'Albania potrebbe essere una scelta sorprendente e gratifica. Vi invito a condividere nei commenti le vostre esperienze di viaggio. Sarà interessante conoscere le vostre opinioni e consigli. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per altri contenuti di viaggio, guide e avventure. Grazie per avermi seguito in questo viaggio alla scoperta delle migliori spiagge dell'Albania. Ci vediamo presto con nuove avventure in tutto il mondo.